Da cinque giorni non si hanno notizie di Marco Aidala, il giovane agronomo di Staletti scomparso misteriosamente dopo essersi fermato sulle rive del lago Ampolino per una sua vecchia e cara passione, quella della pesca. Cosa sia successo dopo non si sa, o meglio non si è ancora compreso. L'auto in uso ad Aidala è stata trovata aperta con alcuni indumenti e parcheggiata nella zona adiacente il lago Ampolino. Sconcerto tra gli amici, preoccupazione nella famiglia ed il papà di Marco Aidala nel parlare di suo figlio lo rappresenta come ragazzo solare e amante della natura e della pesca. I soccoritori in questi giorni hanno effettuato controlli nei posti più impervi ma del giovane non si hanno ancora tracce. Le ricerche continuano con lo scandagliamento delle acque del lago Ampolino ma il tempo trascorso dalla sparizione non è un buon segnale circa la speranza di trovare vivo Marco.